Nulla di fatto per quanto riguarda la partita che c'è stata, che si è verificata ieri 17 agosto 2024 fra Empoli e Monza. L'Empoli ha giocato in casa, quindi in Toscana, il Monza fuori casa, il Monza del grande Silvio Berlusconi che nonostante tutto si impegna neanche molto. Va bene, però il Monza non trova il gol come neanche nell'Empoli. Il risultato finale, infatti, ripeto 0-0. Le statistiche parlano chiaro, il Monza gioca molto meglio rispetto all'Empoli, molto più possesso di palla delle Monza rispetto all'Empoli, molti più passaggi, una precisione dei passaggi a livello percentuale maggiore rispetto all'Empoli proprio del Monza. dall'alto dei cieli, quindi Berlusconi può ritenersi fettici e soddisfatto perché il Monza ha giocato meglio rispetto all'Empoli, seppure però non abbia vinto. Il video termina qua. Iscrivetevi, seguitevi e commentate. Una buonissima giornata.